Uno dei problemi ambientali più preoccupanti nella città di Brindisi è senza dubbio riferito alla pessima abitudine di utilizzare il territorio come se fosse una discarica a cielo aperto. E la cosa diventa ancora più grave quando tra i rifiuti vengono sversati anche resti di tettoio o di serbatoio in amianto, il che comporta gravissimi problemi legati all'inquinamento del terreno e della falda. Proprio questa è una delle peggiori forme di degrado di un litorale come quello brindisino che è persa in condizioni di totale abbandono, il tutto a pochi mesi dall'inizio dell'estate. Durante la stagione estiva la presenza di migliaia di bagnanti e di residenti nelle contrade che si affacciano sullo stesso litorale ha comportato una diminuzione del fenomeno, ma il problema si ripropone sin da questi giorni e per l'intera durata della stagione invernale. Le poche telecamere installate in località Punta del Serrone sono state vandalizzate e nessuno si è preoccupato di farle ripristinare. Sa di fatto che chiunque può recarsi sulla falesia, a pochi passi dal mare, a scaricare ciò che vuole, potendo agire indisturbato. Soprattutto durante le ore serali e notturne, infatti, sulla litorale in quel momento non transita nessuno e non esiste alcuna forma di controllo. E dire che basterebbe dotare di telecamere le vie di accesso alla stessa strada, se passa qualcuno a bordo di camion, carichi di materiale e di risulta e poi ripassa con il cassone vuoto, è evidente che sarà andato a scaricarlo da qualche parte e vale la stessa cosa anche per le betoniere. Le peggiori forme di abusivismo sulla costa, infatti, sono nate proprio per omessi controlli. Nessuno, per anni, si è posto il problema di cosa potesse farci un mezzo pieno di cemento a notte inoltrata. Per certi aspetti, pertanto, abbandoni di rifiuti e abusivismo viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda ed è un motivo in più perché ci si ponga seriamente il problema di come contenere questi fenomeni. Qualsiasi forma di prevenzione, infatti, costa decisamente meno delle somme necessarie per bonificare a posteriori il territorio.